Irene Galletti, il Movimento 5 Stelle ha organizzato gli stati generali della scuola per il prossimo fine settimana? Sì, i stati generali sono dei marchi d'eccellenza, a nostro avviso, del Movimento 5 Stelle e sono l'emblema della partecipazione pubblica che noi vogliamo estesa a tutto il settore della società. Praticamente in questo fine settimana cosa si svolgerà? Si svolgeranno degli incontri che saranno divisi in otto tavoli di lavoro dove potranno partecipare tutti i membri della società civile, potranno partecipare insegnanti. I tavoli sono già organizzati, ci saranno dei moderatori e saranno suddivisi per settori, per argomenti. C'è il settore della scuola per i bambini da 0 ai 6 anni, ci sarà il problema della dispersione scolastica che sarà trattato in un tavolo a parte. Tutto questo diventerà un argomento di discussione e successivamente sarà trasferito, grazie alle nostre parlamentari che saranno presenti in quei due giorni, sarà trasferito in Parlamento, Camera e Serato. Tutte le proposte quindi diventeranno degli testi concreti, quindi degli atti, delle mozioni o delle proposte di legge che andranno direttamente in Parlamento per essere approvate o per le quali chiediamo l'approvazione. Quindi questo per noi è il principio massimo della rappresentatività dei cittadini e di quello che noi come Movimento 5 Stelle riusciamo a fare per i cittadini, cioè trasferire le loro istanze in sede istituzionale. Non solo quindi la riforma della scuola, ma parlerete proprio dell'argomento scuola a 360 gradi? Assolutamente a 360 gradi. La legge della buona scuola, come noi stessi abbiamo detto anche in sede istituzionale a Roma, presenta molte cresceticità. Il problema della dispersione scolastica e il problema della tutela dei ragazzi disabili che devono essere inclusi maggiormente e devono ricevere maggiori risorse è uno dei problemi su quali abbiamo messo particolarmente il focus. Però naturalmente si parlerà di tutto, pedagogia, didattica, a 360 gradi assolutamente. Le nostre parlamentari alla fine della giornata e della domenica porteranno tutte queste istanze, come si è detto faranno un tavolo, diciamo una sintesi finale, in cui faranno il loro intervento e presenteranno anche quello che loro hanno fatto in Parlamento e successivamente da questa sintesi si proporranno i documenti che saranno elaborati successivamente a Roma. Ricordiamo dove sarà? Parco della Comasca, tutta la giornata di sabato e di domenica. Possono partecipare anche i cittadini che sono venuti adesso a conoscenza di questa iniziativa o i tavoli sono già formati? Anzi, sono invitati a partecipare. I tavoli sono già formati, ci sono dei moderatori, c'è già gente al lavoro da mesi, ma chiunque voglia passare, voglia dare il suo contributo, voglia anche soltanto ascoltare quello che stiamo facendo, è il benvenuto. Le porte sono aperte a tutti. Grazie. Grazie.